BIMU Si è tenuta a Milano dal 30 settembre al 4 ottobre la 29esima edizione di BIMU, Biennale della macchina utensile, robotica e automazione. Alla fiera, organizzata da Ucimu e CIS, hanno preso parte oltre 1.000 aziende, di cui la metà straniere. Abbiamo visto oltre 3.000 macchine esposte per un valore superiore ai 450 milioni di euro. Andiamo a sentire la voce dei protagonisti. Noi siamo la filiale italiana della Kawasaki per quello che riguarda i robot industriali e diciamo nel 2014 finalmente i robot stanno cominciando a diventare più intelligenti. In questo caso vedete che il robot ha due occhietti come le persone umane, non più uno come fino a qualche anno fa. Cosa vuol dire? Che vede in tridimensionale, riesce a vedere anche la terza dimensione, così come facciamo noi. Quindi la visione stereoscopica. I robot cominciano ad avere una sensoristica che si sta avvicinando a quella umana. Questo vuol dire flessibilità nelle operazioni, riuscire a prelevare un pezzo, sentire la forza. E quindi una rivoluzione nell'uso industriale della robotica. Una rivoluzione anche perché i costi produttivi di questi dispositivi si sono drasticamente abbassati negli ultimi anni. Kawasaki, come è noto, è fornitore di Toyota, uno dei primi produttori al mondo di robot industriali. E questi robot si stanno via via diffondendo e sempre di più si diffonderanno in settori applicativi. Conosciamo il settore della meccanica, con saldatura, scarico carico presse, ma nel futuro vedremo i robot negli ospedali, nei laboratori di analisi e sempre di più in interazione diretta con l'uomo. E quindi un futuro diverso, quello che ci aspetta, e dove questi robot saranno dotati di intelligenza e sensoristica. Può sembrare fantascienza, ma ci siamo già.